Bene a tutti ragazzi, io sono Alex E io sono Ghi e si riprendiamo col pantofone Che cazzo siamo? Ah ok, ho capito Ah, siamo usciti dall'ascensore, no? Perché abbiamo raggiunto il checkpoint Ci abbiamo fatto quattro passi, abbiamo raggiunto il checkpoint e basta Perché c'è? Perché c'è? Oddio C'è quella roba? Un tablet, c'è un tablet L'iPad è mio, si Adesso scarico Clash of Plans e ci gioco Cos'è sta roba? Attivare? Oddio, no, cosa ti fanno? Oddio La manutenzione Ah, quella roba qua E cosa mi serve? Non mi serve A saltarci giù Oddio, ma Ciavaccia Pesta Oh merda E dopo? Ah, dopo lì? No, lì io Da dove sono arrivato io Lì? C'è arrivato io Dov'è che finisce questa scatola? Qua, quindi posso andare ancora più C'è culo, perché non avrei saltato? Eh? Perché non... No E me la riprendo Non avevo visto che c'avevano le frecce Perché c'avevano queste frecce del cavolo Ok, usiamo Ah, c'è le visioni Non è? Basta, queste visioni Ah, posso anche andare nel macchinario E fare le scuole Qua è tutto molto radioattivo Tutto radioattivo E non mi fanno niente Perché sono Un fotuto Robot Ok No, scelgo Ok, vai qui Non ricarichi Ok, adesso vado su un ascensore E non mi fanno niente Perché sono un robot Oh, yeah, yeah, yeah Chi è che mi spara? Ok Chi è che mi spara? Chi è che mi spara? Ok Chi è che mi spara? Non è che mi spara? Usa la lancia granata, po Oh, ma che cazzo? Ma non mi spara No, mi spara, mi spara Vai su un ascensore, dai Eh, sto cercando Bastardo, 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 bastardo Sì, sì, sì Succa, 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 succa 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 0 Succa Succas Succa Succa Si arriva il genio, ci penso io Dov'è che si è ferdita? Si è presa alla porta o no? Succa Aha Ciampie 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 A Si Ciampie Ciampie amico 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 ciao sei bello hai finito colpi qua ed è ancora finito ma sei bello tanto hai finito colpi ora ma io ricarico hai finito colpi ora comunque sei ricarico ricarico me ne vado su me ne vado su dai qualchi petti hai cambiato arma cosa sta roba cosa cosa puoi usare no a usare a destra a destra accede accede tutto sai che sono dentro sto violando i sistemi di sicurezza vai viola tutto che hackerone che è il fiorone il caffè è pronto vai no guarda questa roba ecco cos'ha brincauto da gente ho spento what why ah ma non era una finestra era una schermo schermo con il matine generatori secondari per cosa scusa proiezione display sistema x cioè ci fa vedere come è il sistema x scusa scusa perché dovresti contenere il sistema x non posso mai essere stati così stupido a fare cosa wow è un polico gigante no vai via è un polico gigante non lo so ah beh perfetto grazie mi mancava la ti mangia ti mangia ti mangia è tutto schermato adesso salta fuori 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 brutto collo brutto collo ha fallito no no 5 4 3 2 1 ma che prova è come ha fatto a saltare che non lo so come cazzo ah non mi son fatto niente perchè hai riabbiate la nanotuta perchè magari son volato ma perchè mi riabbiate la nanotuta e cade a no lui resta su con cosa con la mano ma scusa ma ma scusa ma quella cosa lì era messa in piedi infatti dove l'era messa era attaccata ai fili e lui è tutto con te era tutta una base attaccata ai due fili così ah beh bravissimi jenny jenny come hanno fatto a non pensarci prima eh bello quello mi sa mi sa tanto di portale oh merda si se le tue visioni sono vere allora questa è la fine del mondo no no guai guai significa che quel bastardo è libero e che ora posso usciter eh tam 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 questo significa cosa succede? basta è morto tutto tu livello 3 uuuuuh voi sei tanto più grave questa volta in questo livello ma finché presto quella creatura era la fonte di energia della sella ecco cos'è questo? è bubble è vero cos'era? è logico se possono entrare nella mia testa forse io posso penetrare a loro e trovare lo scheletro che hai profe? sai se c'è una culla qui vicino? scusa è qualcuno lì ah nel laboratorio dove la sella mi teniva vediamoci lì fra 3 minuti perchè gli ha detto vediamoci da 3 minuti ma è già diventata nota da quando gliel'ha detto no non so tutto passa tutto passa io non sei caldo amico no e lui in 10 cm di acqua riesce a dosare e lui buuuuuh c'è qualcosa? non riesco andare più vedendo e non hai neanche... e non hai neanche... che è l'anglista? ops è morto mi dispiace dai stai trucco ma dove si ingangiazza? ah non era neanche occultato prima ah mi era ammazzato non era... lui non lo vedeva ma c'era la valta ma che libro che... e dov'è quello che ho ucciso? è morto e ma dov'è? non lo vedo, non lo sono ma sicurie eh 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 scudate qui come fa? stella rossa, confermata che non si tratta di un errore, basso, confermato, protocollo stella rossa attivato, basso, netta, netta, sono impazzito, stella rossa, questi sono fuori di testa perchè non mi cala l'energia? fa un culo ah non li ammazza, li risparmia ah non li ammazza di 10 secondi dopo cosa fa adesso? li ho risparmiati da gentiluomo eri risparmiati mai sentito di questa stella rossa Psycho? no, mai i cell non si spaventano facilmente, vedi di scoprire... io ma che visiera sporca che hai oh, what the fuck, ma... eh sono lì, eh vai a vedere se c'è quello che ha ammazzato il coltello è morto evita... ah devo... evita i fa... ah, devo evitare i fa... mi continuano occultati praticamente eh vabbè però ragazzi andremo avanti nel prossimo episodio quindi se il video è piaciuto lasciate un commento mettete un piace iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video bello ragazzi what? what? sei perfetto lo sapevo cosa? questo è il famoso ruolo quello che devo fare per forza io mi hanno incannato mi hanno fatto diventare un albero, non ci credo